Quale bambino di Shinsonic sarà bravo? Sonic, Croce e mio nocche. Guarda fino alla fine. Cosa sta succedendo? La persona che vincerà questo nascondino riceverà un sacco di robots. Ma la persona che morirà mostrerà il suo volto nella vita reale. Non mi sto mettendo a rischio. Non gioco. OMG, era il suo volto nella vita reale. Ma ok, mi unisco a questo per Robux. Devo sfamare i miei bambini. Iniziando ora. Cosa? Ok, devo usare gli hack di Brookhaven RP. L'ho visto quando mi sono unito al server. Apriamo questo. 3 secondi. Aoi, posto migliore. Iniziando ora. Ti vedo. Ah. Era a Brookhaven. Questo è Brookhaven normale a A. Ti vedo. Oh no, sta arrivando lì. Devo nascondermi in fretta. Idea. OMG, cos'è questo posto? C'è qualcuno al 100%. Posso sentirlo? Posso sentirlo? Wow. Oh no. Sonic è qui. Ti prenderà blu. Oh, devo scappare. Sento qualcosa. Oh oh. Ah. Ok, devo scappare da qui. Two hours later. Prossimo posto, bara in chiesa. OMG. Questo posto è un posto da 100 qui per nascondersi. Fatto. Aspetta. Cos'è questo? Wow. Jenna. La gomma ha fallito. Hai usato la gomma da masticare per incollarti al soffitto. Sì. Sposiamoci. O n cosa. No. Aspetta. Sonic è qui. Yeah. Non ho posto dove nascondermi. Sento in questo posto due persone. Dimmi dove sono i tuoi amici. Um. Ok, ti dirò. Lui è. Dove? Da nessuna parte. Ah. Bel volto. Iscriviti per il volto di Jenna, per favore. Dove sei? Ok, scappo. Ma ora devo trovare un altro posto dove nascondermi. Pockat. Cosa? Nasconditi in fretta. Sta arrivando. Ho questa pozione. OMG. Cos'è questo? Non so cosa succederà se la berrò. Ok, ho un'idea. Vieni. Non è successo nulla. OMG. No. Ora è impossibile per te nasconderti, Bru. Aspetta cosa succede se mi lancerà su questo cartello. OMG. Questo posto è incredibile. 3000 IQ. Grazie, fratello. Iai. Ora devo nascondermi anch'io. Ok, in bocca al lupo. Spero che sopravviva. Mi chiedo dove è il cercatore. OMG. È sotto di me. Sento qualcosa. Ti ho preso. Oh, ehi. Oh, ciao. Sai dov'è il bagno? No. Accanto alle collezioni. No. OMG. Così vicino. Ero così vicino. Sono quattro persone rimaste. O vedo qualcuno. Devo nascondermi in fretta. Ma dove? Cos'è questo? Assolutamente no. Sono nelle stanze sul vetro. Ben? Ben? Seguimi. Ok. Oh, no. Piscine tossiche. Sono saltato fuori. Oh, no. Ti ho visto. Aspetta. Chi è quello? Fratello, aiutami. Sonic è vicino. OMG. Vieni. Oh, no. Questa piscina ti ha cambiato. Devo scappare. Mi dispiace. No, per favore. Ok, devo scegliere le porte. Più porte. Blu. Oh? Ok, queste vanno bene. Aspetta. Ben, ben, ben. Posso nascondermi dentro di loro. Dove sei, gatto? Ok, scappo. Ho trovato un posto dove nascondermi. Bello. Cos'è questo? Un insetto sul mio water. Non importa. Non importa. Sembra fantastico. Non dentro. Ciao, Jennifer. Ora mi aiuterai. Nessun problema, mio signore. Vieni. Penso che si stia nascondendo qui. O no. Niente qui. E ora l'ultimo. E ora l'ultimo. Ho tempo. Grazie, Shrek. Wow, scappo. Ho bisogno di aiuto, Jenna. Giusto. Lei ci aiuterà. Ciao, fratello. Oh no. Due nascosti qui. Ho qualcosa. Cosa? Ce l'ho fatta. Ok, proviamo. Cosa sono invisibile? Questo è barane. Dammi quello. L'ho bevuto. Scusa. Popcat guarda dietro di te. Oh no. Run. Sono invisibile. È meglio che cura più veloce delle gambe lunghe. Popcat mi sto nascondendo qui. Dove sei? Non ho bisogno di nascondermi. Forse qualcuno è là. Ah, ti ho trovato? No. Ok, scappo. Di nuovo. Sono due giocatori rimasti. E la mia pozione ha smesso di funzionare. Bruh. OMG. Cosa è successo qui? Oh mio amico. Ciao. È stato preso. Sono due giocatori rimasti. What are you doing? Vincerò. Mai. Oh, questo posto sembra strano. Ottimo posto per nascondersi. Eccoti. Ti ho trovato. Facile, solo uno rimasto. Abbiamo dieci minuti o lui vincerà. O no. È ora di scappare. Ok. Ho avuto questa idea pazzesca. Pozione riduttiva più casa uguale miglior nascondiglio di sempre. Sono così piccolo. LOL. Guarda, questo è il pollo di Brookhaven. Sono come un pollo. O no. È qui. Forse. Oh, solo 20 secondi rimasti. Sto andando. Oh, no. Ho vinto. Ora dammi 100.000 Robux. Oh, no. Bru. Ah. Ok, hai vinto. Facile. Mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale. Testiamolo. Ho creato dei bambini bellissimi, Yara. Mutiamoli. Robin, no, 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 man. Fatto. Non mi sento bene, papà. Vieni qui, papà. Ancora. Oddio, ha funzionato. Il mio pennello è il migliore. E ne aspetta. Ehi, riportaci alla normalità. Orario della lezione. Bambini, disegnatemi. Facile. Buono. Evviva. Il mio turno. Buono. Lascia che te lo disegni. Che cos'è questo? Cattivo. Aspetta. Mi dispiace. Ho troppo potere. Non disegnerò mai più niente. Popcat, cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare. Fatto. È la tua fine popcat. Are you sure about that? What the hell? Oddio. Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri, come posso fare soldi? What is that? Guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari. Prima io. Ah, perdenti. Il mio turno. Posso provare? Ah, sì, ma perderai. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Sta volando. Aspetta, come? Facile. Questa è impossibile. Ho bisogno di una nuova macchina. Ah. Andiamo. Yeah, baby. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Oh, mio Dio. Ce l'ho fatta. L'ultimo. Oh, mio Dio. What the hell? Oh, mio Dio. No way. Ce l'ho fatta. Non posso credere a quello che è successo, ma ecco il tuo premio. Sono ricco. Sono ricco, ma ne ho bisogno di più. Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra. Oddio. È questa la mia macchina? Oh, mio Dio. Sono il primo. Bel salto. Il mio turno. Che bel salto. Tocca a me. Perdenti. Buon salto. Tempo per me. Noob. Arriverò alla mia Lambo. Salto intermedio. Ora è tempo per il bagno. Aspetta. È troppo lento. Lasciate che mi disegni una nuova. Fatto. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Oddio. Quasi la fine. Congratulazioni. Hai vinto la terra. Ah, andiamo. La polizia. Lui sta imbrogliando. Catturatelo. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Devo disegnare. Disegnare di nuovo. Fatto. Ok. È ora di distruggerli. Wow, ha funzionato. Capo, cosa devo fare? Saltami addosso. Grazie, ora devo nascondermi perché ce ne sono altri. Oh, no. Cosa dovrei disegnare dopo? Unne. Pokat, aiutami. Stanno distruggendo la mia fabbrica. Oddio. Disegnerò personaggi personalizzati. Non ti preoccupare. Fatto. Wow. Ora penserò a qualcosa di strano. Fratello, che bello. Sta qui. Prossimo. Ah, incredibile. Ultimi due. Oddio. Prossimo. Fatto. Wow. Ok, attacco. Grazie mille. Pokat. Nessun problema. Ma ora sei in arresto. Mi dispiace. Cosa? Si fermi. Si fermi lì. Incredibile. Sono in prigione. Disegnerò la fuga. Bello. Bello. Umne. Umne ciao. Sto valutando da ora. Ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova. Lo farò io. Bello. Tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi. Tutti i miei amici sono morti. Aiutami per favore. Disegniamo. Fatto. Evviva. Prossimo. Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire. Mi sta maltrattando. Per favore disegna un crucifisso. Non c'è da preoccuparsi. Grazie. Grazie. Tutto l'uomo. Il prossimo è Zolfius. Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco. Ok. Fammi provare. Fatto. Grazie. Voleva essere più grande della terra. Oh, sarà difficile. Ma ce la farò. Ok. Ce l'ho fatta. Oh my God. What the hell? Bene. Ha rubato l'autobus con i bambini di Ramby Friends. È brutto. Quindi ciao ciao. Facile. Ok, il prossimo. È stato picchiato dai bulli e voleva denti e rossa nuove per spaventare la gente. Disegniamo. Fatto. Wow, questo è così fido. Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito. I bambini restano qui per un momento. Dei bambini. Brother, no, no, no. Una buona cena. Aspetta, non mi sento così bene. Perché ci hai mangiato? Ehi, se vuoi ottenere Robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora. Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con i tazzi. Smettila di inseguire le persone. Fratello, il prossimo. Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo. Noi. Sai disegnare i personaggi? Sì, ho un'idea. Perfetto. Il prossimo. Fatto. Oh no, fa schifo. Ma lo amo. Aspetta a prendere il vestito. Grazie. Il prossimo. Fatto. Forse l'ultimo. Oh my god. Disgustoso. Che cosa hai detto? Il prossimo. Voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam. Oggi valuterò tutti i vostri jump scares. Prima. Hai. Ora tu. Buono. Prossimo. Prossimo. Ora tu. Ah, capito. Non fa paura. Il prossimo è lo squalo. Spaventoso. Ora scream Eugen. L'ultimo. Buono. Wow, è stato impressionante. Il prossimo morto. Voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam. Mostrerò la tua faccia nella vita reale. No. E me sei metà cattivo e metà buono. Va è libero. Prossimo. Aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle. Ehi, io farò una buona cena. Dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando. Farò saltare in aria le loro case. Ah. Buono. Ora tu. Sono troppo debole. Finalmente. L'ultimo. Non funziona. È troppo forte. Sei sopravvissuto. È bello. Voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro. Lo farò. Wow. Grazie. Voleva una moglie e dei figli. Ok. Ti disegnerò una moglie e dei figli. Oh. My. God. Siete dei bellissimi bambini. Ah. Bello. Lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburghe. Quindi li vuole indietro. Cibo piacevole. Torna indietro. Cuciniamoli. No, 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 no. No sotto i miei occhi. Per me sei una persona perfetta. Ok, prossimo. È così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico. Non credo che le tue scorreggie siano così cattive. Sei sicuro? Sto per morire. Mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo. Oh, cos'è questo? Lo mangerò. Buono. Oh, aspetta. Devo andare in bagno. Buono. È ora di lavarsi le mani. Che diavolo. Il prossimo. È così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso. È ora di fare pipì. Fatto. Ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore. Lascia che lo disegni. Fatto. E per me fai solo schifo ma sei una brava persona. Prossimo. Aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei. Per favore, baciami. Sei così intelligente che dovremmo stare insieme. Ok. Prossimo. Volevano avere dei figli ultra intelligenti. Ok, fammi disegnare. Fatto. Sei così intelligente. Stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla. Wow, wow, wow. No, no, no. Smettila di inseguirmi. Devo disegnare. Ok, fatto. Ora. Il riccio blu è diventato. L'ho ripreso dalla telecamera mentre visitava casa mia e mi toccava mentre dormivo. Il riccio blu è a casa mia. Mi dispiace. Volevo baciarti. Aspetta. Non sono. Hai sbagliato persona. Hai sbagliato persona. Abbiamo bisogno di riccio blu. Cosa sta succedendo? È la mia casa. Devo andarci. Oddio. Cosa sta succedendo qui? Riccio blu. Bevi questo. Ah. No, mai. Dammi quello. No, ora esploderò. Oddio. Cosa è successo qui? Perché tutti sono bambalena? Questa pozione ci ha trasformato in bambalena e ora devi scoprire chi di noi è il riccio blu. Bamban, quale pensi sia la tua ragazza? Questo. Posso sentirlo. Non credo. Era Stinky Joel. L'hai baciato. No, 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 man. Quindi abbiamo ancora dieci bambalenas. Ora dobbiamo controllare le vostre voci. Prima bambalena. Wow, bellissima. Prossimo. E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente. Ok, non sospetto. Prossimo. Ciao, dove ti stai nascondendo? Per favore, fa male. Sono forte. Um, non suona esattamente come bambalena. Ma va bene. Prossimo. Ascolta, se riesci a sentire quello che sto dicendo, fai un cenno a qualsiasi telecamera. Cosa? Voce maschile. Sei un sospetto. Prossimo. Quindi ci incontriamo di nuovo. Dove sono i miei figli? Prossimo. Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza. Sospetto. Prossimo. Mi ha portato in bagno. Questo era strano. Prossimo. Piacere di conoscerti. Um, penso che tu sia malato. Prossimo. Sei stato uno studente cattivo. Bene. Ultimi due. Cosa? Ok. Questo è Opila. Ma l'ultimo. Ok. Questo sembra normale quindi tu. Stai uscendo. Avevo ragione. Sono rimaste solo nove bambalena. Quindi ora devo controllare i vostri spaventi. Numero uno. Prossimo. 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 Era come bambalena. Non sei più un sospetto. Prossimo. Prossimo. Aia la mia testa. Era reale. Prossimo. Ora tu. Cosa era quello? Non è bambalena. Fai di nuovo. Il secondo era reale. Prossimo. La mia testa. Ma era uno spavento molto sospetto. Prossimo. Di nuovo. Oh fratello. Perché hai lo spavento di Nabnab? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello. Sospetto. Prossimo. Unne. Spavento incredibile. Mi piace. Sei reale. Prossimo. Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles. Sospetto. Prossimo. Tu lo sai. Aia. Perché lo spavento di Bambam? Oh. Ho appena cliccato il pulsante sbagliato. Era ancora Bambam. Stai venendo eliminato. Ah. Era Bambam. Ops. Ok. Prossima categoria. Disegnati ora. Ok fatto. Non sono bravo a disegnare. Facile. Non un bel disegno. Prossimo. Non il migliore ma ok. Prossimo. Wow. Prossimo. Wow. Buono. Prossimo. Brutto. Sei un sospetto. Prossimo. Um. Perché c'è un Stinger Finn? Cosa? Um. Me nulla. Strano. Prossimo. Buono. Wow. Hai dipinto un modello 3D. E l'ultimo. Um. Scherifo. Che diavolo. Mi dispiace ma stai venendo eliminato. Ciao ciao. Ah. Avevo ragione. Non ne restano molti. Prossimo. Devi disegnare la tua cotta. Facile. Mostrami. Ohaio Bamban. Prossimo. Bene. Ok prossimo. Cosa? Figo. Prossimo. Bambino ma Bamban. Quindi ok. Prossimo. Bamban malvagio. Bene. Questa è la mia cotta. Aspetta. Cosa è questo? Um. E tu? Ragazzi siete sospetti da ora. Ma ora? Bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro. Non è il migliore. Prossimo. Quello blu. Bambalena era molto meglio. Prossimo. Quello rosso. Lasciami pensare. Meglio del precedente. Viola e arancione. Perché questo? Viola molto bene. Ma arancione. Questo è brutto. No no no. Ne restano tre. Facciamolo. Vai. Siete al sicuro ragazzi. Mi dispiace fratello ma sei falso. Per favore no. Stinger Flynn. Quindi ne restano solo sette. Ok. Quindi ora ho una domanda. Quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato, dove sei andato? La risposta corretta è nella stanza su andate. Je ne suis pas dué pour des saints. Um. Siamo andati a un appuntamento. Stavamo bevendo caffè. Per favore lasciami in pace. Wow. Mi chiedo dove l'ha portata. Sembra reale. Ok. Quindi ora tu. Lo stesso. Data. Ok. Lasciami pensare. Mi ha portato per l'operazione. E voleva cambiarmi. Ah. È ora di cambiarti. Ah. Perfetto. Un strano. Ok. Tu. Mi ha portato a Umme. In prigione. Cosa. Non credo sia corretto. Ok. Tu. Data. Prossimo. Mi ha portato fuori per un appuntamento. Ok. Tu. Mi ha portato in bagno. Cosa. Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno. Fratello sei un sospetto. E l'ultimo. Sì. Ok. Non riesco ancora a scegliere chi uccidere. Quindi ora. Bambalena era molto veloce. Benvenuti al torneo finale. Oh my God. Siete pronti? Sì. Sì. Wow. È così veloce. Prossimo. E prossimo e prossimo. Ok. Vediamo chi ha vinto. Bravo. Sei stato veloce. E aspetta. Perché ne manca uno? Mio Dio. Mi dispiace ma devo ucciderti. Ciao. Lumaca Selene. Bambalena era intelligente. Quindi ora risolvi questo quesito. Vieni. Una mela più una mela equivale a? Due mele. Hai ragione. Bene. Prossimo. Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro. Hai ragione. Sei legittimo. Prossimo. Aereo meno carburante per auto equivale a boom. Wow. Sei così intelligente. Prossimo. È così facile. È zuppa di pomodoro. No. Cosa? Assassino più coltello equivale a morto. Non sei bambalena. Ciao. Zolfius. Non bene ma abbiamo solo 5 bambalene rimaste. Ok. Quindi disegnati e poi diventa quello. Tu per primo. Fatto. Wow. Sembra bambalena. Ok. Quindi ora per il prossimo. Facile fratello. Aspetta. Cosa è questo? Sei un sospetto. Ok. Dopo un sospetto il prossimo. Andiamo. Bambalena più nabnab. Molto strano. Ma ok. Ora tu. Cosa è questo? Zolfius più bambalena. Prossimo. Facciamolo. Cosa è questo? Fratello. Stai ricevendo una spilletta di sospetto. Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata. Mostrerà chi è reale e chi no. Vado per primo. Potresti essere bambalena. Ok. Quindi il prossimo. Questa pozione l'ha eliminata? Fratello. Ok. Quindi il prossimo. Grande prossimo. Mio Dio. Questo è sospetto. Hai il corpo di nabnab. Quindi il prossimo. Questo è falso. Era Coach Peacles. Mi dispiace. Ok. Quindi abbiamo solo quattro bambalene. Ok. Quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita. Cominciando con il primo. Lei era super forte. Perché sei così forte? Ah sono sempre stato così. Ok. Questo era corretto. Bambalena è forte. Prossimo. La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono due persone. Ok. Ora vediamo cosa c'è dentro di te. Cosa? Due persone. Ok. Questo è sospetto. Due persone sono in pigster. Lei ha ucciso bambam perché era con nabnablena. Ok. Bambalena potrebbe essere gelosa di bambam. È corretto. Lei era innamorata di pigster. Aspetta. Tutto questo mi dice che sei un pigster. Avevo ragione. Ne restano solo tre. Lei è stata morsa da bambani poi ha perso la mano. È vero e corretto. Prossimo. Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici. Questo è il problema matematico più difficile del mondo. Due più due. Quattro. Mio Dio. Sono così intelligente. Sei intelligente come bambalena. Era molto lenta come una lumaca. Era come una lumaca quando camminava. Mostrami come cammini. Mio Dio. È la cosa di lumaca selene. Strano. Prossimo. Lei puzzava. Bella cena bambalena. Non mi sento così bene. Oddio cosa. Mio Dio. È come Stinky Joel. Aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso. Che diavolo. Strano. Aveva una grande pancia perché amava mangiare. Fratello. Stava spaventando i nerd. Siete tutti nerd. Odio i nerd. Attacco. Ok prossimo. Lei era la cotta di tutti. Anche di Adam di Lenkybox. Sì, è vero. Tutti amavano bambalena. Aveva dei bambini con bambam. Mostrameli. Wow. Sono dolce. È stata colpita da Jammo Josh. Ho mandato Shin Sonic in paradiso o all'inferno. Guardatelo fino alla fine. Questa è una gara. Questa è una gara. Oh my God. Mio Dio. Voglio tornare da mia madre. 3 Cos'è questo? Ah. Sono PBS. Oh no. Così vicino. Rosa o pistola fratello? Cos'è quello? Smettila di sparare. Lei vincerà. Wow wow. Ah zombie. Impossibile. Scante. Le mie gambe. L'ultima. Vado per primo. Mio Dio. Wow. Scegli me. 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 Oh mio Dio. Scegli me. Scegli me. Lui è cattivo. Ti scelgo. Sì. No. Wow. Dove siamo? Puoi aiutarmi a scendere. Wow. Per favore buono. Fammi vedere cosa hai fatto. Hai accerato molte persone. Aspetta. Questo è davvero brutto. Il prossimo. No no no. Stava picchiando il suo ragazzo. È vero Tubers? Sì. Mio Dio. Smetti di mentire. Sei una cattiva persona. L'ultimo. Non riusciva a smettere di ritare. Ok. Questo non è male. Ma sei comunque cattivo. Ciao. No. Metti mi piace e iscriviti prima che quei robux spariscano dallo schermo. Oh ciao. Dove sono? Mostrami le tue azioni. Stava rapinando banche. Amico. Restituirò i soldi. È troppo tardi. Mostrami la prossima cosa. Amava Harley Quinn. M. Va bene. Lo amo. Mio Dio è bello. L'ultimo. Stava picchiando i più potenti. M. Ero buono. Dammi i tuoi soldi. O hai cercato di aiutare. È una cosa buona. Adoro questo lavoro. L'ultimo il più difficile. Ah povero. Cosa sto facendo qui? È il giorno del giudizio. Ti pagherò. Faceva il bullo ai poveri Bacon. Fratello perché hai fatto questo? Amo i soldi. Prossimo. Stava scorreggendo addosso alle persone. È disgustoso. Mi dispiace. Ok. Non è male. L'ultimo. Non usciva perché era odiato dalle persone. Non è male. Eri triste. Vai qui. Ah. Gran giorno. Ok. Penso di poterti dare un'altra vita. Davvero? O nuovo bambino. Mi hai adottato. Sì. Mostrami le tue abilità. Questo è troppo grande. Sei debo. Bambini. Ho avuto. È stato così vicino. Perché mi trovo in questa situazione? Di notte. Prendiamo vendetta. Papà sta dormendo. Muscoli. Oh mio dio. Ecco il suo cervello. Odio questo bambino. Sta cercando di prendermi a calci. Distruggerò i suoi muscoli. Ho perso tutti i muscoli. Eventually. Il mio compleanno dammi i miei regali. Un libro. Per te. Wow. Sembro grassa per te. Il mio turno. Ho trovato un fiore. Per te mamma. Cattiva. Ehi controlla la tua altezza. Va bene va bene. Io per primo. No. Perché? Sei troppo piccolo. Mio dio è il mio turno. No 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 no. No per favore. Aiutami. Invio potere a bocca. Cosa? Come? Perché? Ah. Puoi andare. Ho potere. Non può essere così. Oh no. È il tuo momento. Sono bloccato. Fa male. Non è ancora finita. È abbastanza. Devo sollevare. È difficile. Dargli poteri divini. Wow. Ho le mani. Ah. Funziona. Sembro fantastico. Ah. Lasciami provare il mio potere. Wow wow. Ho un potere incredibile. Oh. Cosa sta succedendo? Bulli? Fratello. Non sono tuo fratello. Qui è il tuo posto. Prigione. Per favore no. Per favore no. Cosa è appena successo? Wow. E si ricomincia. La persona che perde non torna mai indietro. Wow. Prossimo. Ah. E che? Ah. Cosa dovrei scegliere? Prossimo. Sei un principiante. Sto scegliendo i bene. È ora di giudicare. Catturava i criminali più ricercati. È fantastico. È stato licenziato dal lavoro. È stato licenziato. Oh no. Ma non è male. È stato arrestato e ha formato una gang. L'ultimo ha formato una gang lol. Ma va bene. Chi è il prossimo? Figlio. Per favore. Ero buona. Mio dio. Mamma. Mai. Ciao. Ok. Ho finito il mio lavoro. Guarda fino alla fine per vedere l'ultima quinta evoluzione di Shin Sonic. Fratelli. Sì. Dobbiamo entrare in questo parco giochi. E scivolare dalla diapositiva estrema. Controlla prima la tua altezza. Facile. Non puoi andare. OMG. Bene. Io accanto. Vai. Ottimo. E' così triste e non poter divertirsi con loro. Oh ragazzo incondotto. Hai qualcuno mi ha colpito. Oh primo ragazzo. Devi usare il nostro parco giochi. Aspetta un attimo. Scegli uno. Voglio il verde. Andiamo. Scivolo. Divertiti a... Dove sono? Faccia d'anatra o piccoli. O no. Odio i cetrioli sott'aceto. Non è divertente. Inferno o alto. Alto. Non è buono. Vecchio o giovane. Giovane. Sono un brutto bambino. Sbalzo. Sono troppo spaventoso. Fuoco o essere buono. Buono. No. Voglio essere buono colpa mia. Non cattivo. Cosa mi hai fatto? Ah, questo è solo il tuo primo livello. Fammi entrare. Vai. Fratelli. Fratello. 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 Mi avete lasciato prima del tempo per la punizione. Ragazzi, volete scivolare? Un mecosa. Questo non sembra buono. Non mi interessa. No. Dove sono? Slime. Oh no, dell'acqua in bocca. Sono la regina. Blu o verde? 100% blu. Wow. Sembro blu. Grande o piccolo? Grande. Nessuna differenza. Nessuna differenza. Pericoloso o no? Pericoloso. Non voglio sembrare così. Carino o brutto? Brutto. Carino. Tempo di teletrasporto. Sì, Shrek. Denti di squalo. Arancione o senza occhi. 100% arancione. Aiutami. La mia testa. Mani di Gekko. O faccia spaventosa. Gekko. Abbaio. Lava o acqua? Lava. Ok, sembro spaventoso. Roblox o mani? Mani. Oh ma... Wow, wow. Grassoccio o magro? Cosa è questo? No. Occhi grandi. I miei occhi vedono tutto. Oh ma... Oh ma... Viola o blu? Viola. Mi piace. No? Mani lunghe. E gambe lunghe. Ok. L'ultimo. Vivi nelle fogne o in un McDonald's. Fon. Andiamo. Oh no, ci ha cambiato per sempre. Mamma. Mamma. Oddio. Che cos'è questo? Ci cambia. Sì. Sembri brutto. Dove sono i nostri figli? Dieci anni dopo. Primo giorno di scuola. Ah, sembrano strani. Cosa? No, per favore. Per favore no. No. Per favore. È ora di passare al secondo livello AA. Andiamo. Sento qualcosa. Ora che? Wow, è stato pazzesco. Dobbiamo arrivare al livello successivo. Aspetta. Se volete il prossimo livello dovete trovare le porte. Oddio. Lo troverò io per primo. Eccoli qui. Entriamo. Sto avendo problemi. È stata una cattiva idea. Muscoli grandi o capelli di Chad. Muscoli. Gambe lunghe o testa grande. Gambe lunghe. Forte. Forte. Sono troppo grande. Essere un giga Chad o avere la mano più grande. Gigachad. Aiutami. Denti affilati o grasso. Sono troppo forte. Devo essere grasso. Grande cervello. Sono in forma. È il mio turno. Penso che sia qui da qualche parte. Mi dispiace. Eccoli qui. Aspetta. Questi non sono i miei. Muoviti dal mio cammino. Tempo di entrare. Eccoli qui. Oh no. È ora di entrare. Sono pronto. Ah sei l'unico noob che non ha avuto l'evoluzione. Non riesco a trovarlo. Meglio fare presto. Agli fratelli. Aspetta vedo. Eccoli qui. Ah ora che. Metti mi piace e iscriviti e domani ti sveglierai con così tanti Robux. Oh no. Oh no. Oh no. Ehi. Cosa sta succedendo? Insegnante. Mi dispiace. Vieni alla lezione. Adesso. Ok. Ti diamo A e o ti caccio dalla scuola. Figlio. Vieni prima. Ciao papà. Era estremamente intelligente. Odiava gli studenti stupidi. Are you serious right now? Figliolo. Chi pensi che sia stupido? Loro. Bravo ragazzo. A e. Amava suo padre perché gli dava A e tutti i giorni. Questo è così dolce. Prendi questo A e. Grazie papà. È stato trattato meglio perché suo padre è un insegnante. Non è vero. Io ti tratto allo stesso modo. A e. Ok. È il momento della parte negativa. Aveva la rabbia. Aspetta cosa? Cosa mi hai fatto? Cattivo. Era sempre il più alto nella stanza. Oh my god. Io sono il più alto. No io. Non puoi essere più alto di me. Cattivo. La sua ultima evoluzione sarà la cosa più spaventosa che abbiate mai visto. Mostrami. Non posso. Ma posso spaventare? No. Mi hai spaventato. Ti caccio dalla scuola. Ah. Chi è il prossimo? Per favore non io. Vieni blu. Era disgustoso e le ragazze scappavano da lui. Ciao ragazze. Brutto tu. Smettila di spaventare le nostre studentesse. Cattivo. Il suo alito uccide le persone. Mostrami. Disgustoso. Non sa leggere. Il suo cervello è piccolissimo. Ah che cervello piccolo. Calcio. Ne sono rimasti solo due. È il più veloce della scuola. Fammi vedere. Ok. È davvero veloce. Bene. Mi piace a E. Grazie. I suoi voti sono FFFF e F. Bravo. Per questo motivo. Devo darvi un calcio. È diventato un bullo dopo essere stato vittima di bullismo. Oh no. È troppo. Calcio. Ultimo. Sembri un nerd. Mi dispiace. Ah. Fermati per favore. Era estremamente solo. Era estremamente stupido. Oh my god. Non piaceva a nessuno e non aveva amici. Calcio. Aspetta perché. E siamo chiusi. Il poliziotto sta dormendo. È ora di uscire. È vero. Chiave. Tempo di aprire. Sono scappato. Trova il mio adesso per favore. Ok. Oh no. Sta dormendo. Tornate indietro. Ma... Apri velocemente. Sì. Sono due rimasti. Non scapperai dal carcere. Oh no. Sta arrivando. Ehi. Ecco la chiave. Fermati adesso. Criminale. Ok. Calma. Ah. Ti ho preso. Salto di popcat. Ok. Usciamo. Ok. L'ultimo. Dove è la mia chiave? Em. Guarda nei luoti. Bro. Usciamo. Ah. È tempo per il prossimo livello. Ok. Siamo grandi. Ma come possiamo ottenere la prossima evoluzione? Em. Cos'è questo? Se vuoi una nuova evoluzione devi raccogliere tutte le mascotte. Sono davvero difficili da trovare. In bocca al lupo. Aspetta un attimo. Aspetta cosa? È il momento di trovare tutte le mascotte. Vieni da papà. Ah. Sembrano strani. Oh. Ho dolore ma l'ho presa. OMG. Vogliamo questa evoluzione. Qui. Sono troppo grande. Un'ora dopo. Finalmente. Ok andiamo. Qui. L'ho preso. Oh my god. Oh mio dio la mia evoluzione è spaventosa. Oh mio dio eccolo qui. Se vuoi combattere contro di me. Facile. Wow. Ok. Ho la sfida più difficile. Ah noob non hai l'evoluzione. Ah noob non hai l'evoluzione. Ah non hai l'evoluzione. Ehi. Fermati. Wow. Prendilo. Ehi. Prendilo. Mai. Come? Come? È facile. Salta semplicemente. Ah. Facile. E l'ultimo salto. Wow. Sembro fantastico. Il giorno dopo. Creature selvagge stanno distruggendo Brookhaven RP. Sì la polizia dovrebbe fare qualcosa. Quindi non uscire. Ehi. Dovremmo divertirci sul parco giochi. Sivolo. Sei arrestato. Cosa? Il giorno dopo. Ok. È il momento di giudicarvi. Stava catturando le persone alle porte e poi le distruggeva. Stava schierando mostri dalle sue porte per uccidere le persone. Wow. Ha preso mille anni di carcere e poi è fuggito. Are you serious right now bro? Ok. Per me è disgustoso. Rosso. No per favore. Ah. È il tuo turno. OMG sei così grande. Erano controllati dal dottore. Sono fuggiti dal carcere trovando tutte le chiavi. Yeah. Sono diventati da neonati a mutanti. Ok. Il mio verdetto è. Devi trovare l'amico rosso e distruggerlo per quello che ti ha fatto. Ti amo. Qualcuno mi ha allungato. Mamma. Papà. Popcat mi ha trollato. Che cosa? Per favore non parlare. Devo imparare. Wow wow. Sono intelligente. Secchione. Secchione. Perché hai trollato tua sorella? Cosa? Mi ha fatto male. Non ero io. Non ti credo. Inizia a sollevare. Aiutami. Di note. Le mie ossa. Aiuto. Genitori. Dove sono? Guarda cosa gli hai fatto. Se perdi sei fuori dalla nostra famiglia. Ma non ero io. Sei stato tu. Inizia. O me ha rubato il mio. Non può. Devo imparare. Wow l'ho fatto. Fammi imparare dove è il suo punto debole. Qui. Difficile. Difficile. Cosa non piace ai King Kong? Dita. Facile. Vediamo come saltare più in alto. Bello. Sta arrivando. Bello. Godzilla. Ah, l'ultimo. Non può essere così. Per favore no. Non ero io. Davvero. Ti odio. Non tornare più. la notte successiva. La notte successiva. Sono troppo alta. Genitori. Sto chiamando la polizia. Sono così triste. Sei arrestato. Cosa? Non funziona. Dimmi cosa hai fatto. Non lo so. Come niente. Stai allungando la gente di notte. Surprise. È falso. No. Prigione. Sono troppo intelligente. Uscirò. Guarda. Ha perso la chiave. Facile. Facile. Veloce. Hai. È stato disgustoso. Sei troppo intelligente. Dove mi hai portato? Dobbiamo renderti stupido. No. Ti prego. No. Sono così stupida. Non so come camminare. Non può essere così. Devo imparare. Wow. Matematica. Ehi. Cosa? Abbiamo bisogno di te. E che? Cosa hai fatto? Mi dimetto da questo lavoro. Oh. Ok. Ok. Prima di tutto. Hulk. Non ho fatto niente. Oh my God. Ok. It's happening. OMG. Fratello. Vediamo cosa hai fatto. È stato catturato mentre distruggeva i difetti. Mostrami il filmato. Qui signore. Grazie fratello. Ridammi mio figlio. Mai. Dai ridammielo. No. Mi piace e sottoscrivi la casa uguale per questo bambino. Wow. Era triste. Stavi cercando di salvare tua figlia. Grazie. Ha bevuto la pozione ed è diventato verde. Aspetta. Questo è davvero brutto. Vai qui. Ha vinto un gioco di tiro alla fine con i calamari grazie ai suoi muscoli. Va bene. Sei libero. Bello. Il prossimo è difficile. OMG. Gru e i Minions. Cosa? Liberi. Lasciateci liberi. Ha rubato la luna. Questo è male. Usciva con le ragazze Minions. E N. Questo è strano. Gruto. Cosa? Ha sganciato una bomba nucleare sulla terra. Aspetta. Questo è super cattivo fratello. E l'ultima cosa. Ha fatto uscire il virus dal baratono con il dottore. Aspetta. È vero? Sì. OMG. No. Ehi. 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 Vai in prigione. No. Sì. Dammi la prossima. Il prossimo. PB. Cosa? OMG. Sembra un'immagine diciata. Lasciami in pace. Smettila. Vediamo cosa hai fatto. Stava creando i bambini. È ingiusto. Smettila di farlo. Ha un coltello in tasca. Stava scavando sotto la prigione. Hai scavato sotto la prigione? No. Prendetela. Ehi, torna indietro Mai, per favore, mio bambino è triste Oh, è triste Vieni con noi Troveremo una casa per il tuo bambino Ma tu andrai in prigione OMG, questo lavoro è difficile Amici dell'arcobaleno Ho sentito parlare di te Io sono buono Hai iniziato a sparare al supermercato Wow, è troppo Il prossimo ato Ha dato fuoco alla sua scuola Fratello, smettila Questo è male Il prossimo Ha punito l'insegnante con un trucco orribile E i capelli bruciati Sei cattivo Vai nella tua cella Sei libero per questo Grazie, finalmente Devo imparare di più Wow, è molto Ok, sono pronto Genitori, statisticamente è impossibile che sia tornato Non mi importa Torna quando sarai più forte Ok, ok OMG Devo allenarmi come un professionista Wow, sta funzionando Ora il mio cervello dice di sollevare Cominciamo Wow, il prossimo Wow, guardami Difficile Ma funzionante Ce l'ho fatta L'ultimo Ah, lavorare come sempre Perché ti sta facendo questo? Genitori Genitori Ora posso risolvere chi sta facendo questo Wow Sì Di notte Ok, bello Dormire E mi nasconderò qui Sei dolce È ora di prenderlo Torna indietro Ah, ti ho preso Dove è andato? Sto entrando Vieni qui Dove sono? Ehi È scapato Vediamo cos'è questo La vita dell'amico arcobaleno Dacci i tuoi soldi ragazzo No Aiuto Ehi Fermati Oh mio Dio Grazie Vuoi essere la mia ragazza? Sì Vuoi sposarmi? Mi prendo i tuoi figli Troveremo i nostri figli Non preoccuparti Wow, questa storia era triste Ma ho perso lui OMG Lei è così alta Aiutami È troppo Sto richiamando la polizia No Per favore Non se ne parla Il mio vecchio lavoro Ciao, sono un uomo davanti alla finestra Ha rotto le ossa ai bambini Male, male, male Si fermava davanti alle porte delle persone per ore e le fissava E è strano ma va bene L'ultimo Si è sbraiato facilmente sotto il letto del bambino Strano e illegale Andrai in prigione Il prossimo Non c'è modo Vieni qui Gargamella e i puffi Sì Hanno attaccato la città dei piccoli puffi Fecero una zuppa di puffi Ha schiacciato le case dei puffi con il suo piede Ok, sei una persona cattiva Ma tu sei libero Bello Oh no Genna Vieni qui Smettila di baciare Aiuto Ok, vediamo Aveva una cotta per PopCat E ne mi sento strano a Bene Ha hackerato il computer di PopCat Stava insultando in un gioco per bambini Bello bello Vai in prigione Puoi andare No Ah Easy È ora di risolvere l'ultima domanda Ho lavorato su questo per così tanto tempo E so come prenderlo Ah No Non l'ho fatto io Siete arrestati Ciao a tutti Ti ho preso Quindi ora devo giudicarvi Ma prima Wait a minute Non ho fatto nulla di male Are you sure about that? Aggrediva i bambini all'asilo Truffava la gente per soldi Non è un bravo ragazzo Non mi interessa Stop Lui impiega illegalmente dei bambini per lavorare per lui Dio mio Sei una persona cattiva fratello Prossimo Prendevano i giocatori e li schiacciavano È vero questo? No No Sì, lo era No È infemato Cattivo Prendevano le persone alla fabbrica Bene Cambiavano le persone in giocattoli Oh my god Oh Hell no Molto male Andrai in prigione No No Oh no Il giocatore è il prossimo Sei stato in prigione? Sì, mi dispiace Faceva il bullo a Ugiwaki Non bene Mi dispiace Questo è per te Oh grazie Questo è stato bene Apriva le porte con il suo grab pack Ha gettato papà e mamma long legs in una tritta carne Non sei così cattivo Sei libero Ok, solo due rimasti Ciao, sono un mangiatore di treni Attacava i nemici ai binari e li faceva investire Dio Era brutto fratello Non bene Non bene Mi dispiace Vediamo il prossimo Demoliva gli edifici Perché? Non lo so No 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 Fermati Sei cattivo Mangiava i bambini dopo averli presi Sei super cattivo Qui è l'ultimo Perché hai fatto questo? Posso mostrarti Vuoi vedere la mia faccia? Sì Questo è Amy Simpsonic è sceso dallo scivolo più pericoloso del mondo Devo provare questa scivola Aspetta Sono bloccato Per favore non andare Vado fratello No Oh no lo sento Farà male Oh pipì Sto aspettando mio fratello adesso Forse è bloccato anche lui Fratello Yes Yes No Ma Fratello No Era colpa di questa scivola Sì Lo stiamo chiudendo Era troppo pericoloso Sono triste E solo Bambini volete giocare? Cosa? No Noi ti odiamo Tuo fratello è stato posseduto Come osate? Venite con me No Questo è proibito Ah Sì Ah Un cosa? È morto OMG Devo provarlo di nuovo Ok andiamo Cosa sta succedendo? Devo correre veloce Ehi ragazzi Volete provare la nuova scivola? Sì Venite veloci Devo vedere cosa sta succedendo 5 ore dopo Aiutaci Gatto OMG ok Gli ha distrutti Devo fare qualcosa Facciamo il peggio Prendendo la direzione sbagliata Perché sono così piccolo? Aspetta Non ha fine Non posso Aspetta Non posso Cosa è successo? Chi ha chiuso questo? Questo non è normale Devo chiamare la polizia Adesso Aspetta chi è quello? Per favore aiuto 1 Dove sono? Nessuna via d'uscita Devi scivolare Ma Devo scivolare? Questa è la punizione Per chi va dalla parte sbagliata Devo scivolare Questa è una scivola prebita OMG Spero di sopravvivere Metti a mi piace A iscriviti Se non vuoi scivolare su questo Le mie ossa Sono tornato La scivola È normale E cosa è questo? OMG Devo fare pipì Veloce Sono in sedia a rotelle Devo provare un modo diverso Prossima prova Taxi Ah Ehi yo What the Ma What? Ok questo è troppo Bomb has been planted Bello Um Cosa è successo Oh hello eh È troppo Non posso rischiare la mia famiglia Chi sei? Devi aiutare fratello No Non aiutarlo Um Stanno combattendo LOL Scelgo di aiutare il fratello Cosa è questo? Devo entrare Devo entrare Pumme Dove sono? Questo è inquietante Devo correre Non entrare OMG cosa ho appena fatto È tutto per il mio fratello Devo correre Sono troppo piccolo Oh mio dio Dove sono? Devo ucciderne uno Per favore non uccidermi Ero povero e nessuno mi voleva Non uccidermi Ti amerò Hey yo What the You picked the wrong house Boo Ah Se scegliessi lui Sarebbe male Tube versus bambino Bello Ti darò robots Umbe Bello Ti farò ridere Ah Wow Questa scivolata è spaventosa Cosa dovrei scegliere? Wow Squid Game Ci piace Sono morti Denaro o bambino? Denaro Sto scherzando Cane o gatto? Gomma da masticare o ex? What is that? Umbe Cosa? Pipì o cacca? Ha? Bro Ce l'ho fatta E accogli tutte le chiavi per aprire il cervello Penso che ci sia il mio fratello Fratello aiuto Devo raccogliere le chiavi Ma dove? Voglio acchierare tutti Voglio essere il miglior hacker E voglio stare con Roblox Wow Questo è il cervello di Jenna E la chiave Prima chiave Amo mangiare la pancetta Voglio stare con Jenna Voglio riavere la mia famiglia In realtà sono buono Non sono una persona cattiva Wow Tu bersa è carino Ho fatto la zuppa per te Umbe Grazie Voglio essere ricchissimo Voglio bandire PopTech da Roblox Voglio uccidere tutti gli hacker Lei è mia moglie Bello Oh mio dio Sono nel cervello di Roblox Spero che mi dia StarCode Oh ciao Dove è la chiave? Grazie Ok posso uscire adesso Cosa è successo a questa diapositiva? I bambini vanno via Ok Aspettiamo la notte Ok Andiamo Oh mio dio È vivo Entriamo Sono spaventato Aspetta Vedo qualcuno È Jenna Questo è inquietante Mr. Beast Jenna Di che? Fratello guardati dietro Cosa? Non può essere vero Dove siamo? Corriamo Veloce Devo trovare una via d'uscita A few minutes later Ok Finalmente Abbiamo trovato una via d'uscita Ma ora dobbiamo distruggere questo Sì Questa è una bomba Sai cosa fare? 5 4 3 2 1 Vai OMG Ce l'abbiamo fatta Cosa è successo alla mia scivolata? Cosa? Hai costruito questo? Sì E ti distruggerò? Qualcuno ha ucciso Bambalena E anche qualcuno ha ucciso NabNab Guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino Chi è l'assassino? Aspetta Mettili giù Prima Bambam Vedo i tuoi denti su di lei Mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore Chi è l'assassino 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 Hai il mio braccio Oh mio dio mi dispiace Mani in alto Mani in alto Sei arrestato Mindy l'hai uccisa Ho solo morso la sua mano Ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione Impossibile che sia in prigione Ma aspetta O no abbiamo la stessa cella Ah finalmente posso vendicarmi Mio dio quindi l'hai uccisa Il caso è chiuso No aspetta Ho ucciso un poliziotto per salvarla Ah sei chiuso qui dentro No Mio dio mi hai salvato Bacio Mio dio quindi vi siete innamorati alla fine Sì Ok passiamo al prossimo Fata Ururo Stavo giocando con Bambalena e Nabnab Oh mio dio è stato così cattivo Ma poi si è vendicato su di me e Bambalena Spero che nessuno mi spaventi di colpo Amico fammi uscire Ok quindi Nabnab l'ha solo spaventata di colpo Ma aspetta cos'è questo Il naso di Coach Piccol No mi stavano prendendo in giro Dove sei? Ah cos'è questo? Il mio naso Lascia che lo tagli per te No No Oh mio dio cosa è successo dopo? Mi sono vendicato su di loro Ehi cane mi puoi dare il tuo naso? Lasciate che lo faccia io per voi Grazie Ora è il turno di Bambalena Ok vedo Bambalena Ehi dammi il tuo naso Ok Grazie Ehi Bambalena Muori Quindi hai ucciso Nabnab e Bambalena Non lo prometto Impossibile Figlio di Bamban L'hai ucciso tu? Non sono stato io Lo prometto Ho invitato Bambalena al mio concerto Ma Nabnab non piaceva l'idea Ehi Bambalena ho fatto qualcosa per te Cosa? Cosa sta pensando? Lei è la mia cotta Quindi cosa è successo dopo? Mi sono vendicato Ok Nabnab sei pronto per sentirmi cantare? Vai Ah tempo di riposarsi Quindi l'hai inciso Caso chiuso No Impossibile Chi lo ha fatto? Aspetta C'è una siringa Strumento del dottore Penso che il rosso potrebbe ucciderlo Non ero io Cercavo di farli mutare Ora di farti mutare Mangia questo Ah No 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 Ah Ora tocca a te No no Ha funzionato Ah E ora è il momento di unirvi Perfetto Sì Sapevi che avrebbe potuto ucciderli? Sì Ma non è successo Mio dio L'umaca Selina è il tuo muco Li hai uccisi NANI? No in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore Cosa stava facendo stava schivando meme lol Ok ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab Mi ha buttato in piscina Mio dio ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri Di nuovo Aspetta Adell'alfabeto Hai ucciso bambalena e nab nab Ero un peluche normale Ma lei sedeva sempre su di me Tempo di sedersi Ah Un'ora dopo Ho aggiunto delle spine su di me Si pentirà di essersi seduta su di me Tempo di sedersi Ah Ehi 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 Due ore dopo Ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a Bambalena ceniamo insieme Ok Prendi posto Sarà la cena migliore Oh no no man Sto rompendo con te Aspetta cosa Cinque ore dopo Ultimo scherzo Aggiungerò della TNT Ah Oh voglio dormire Ho avuto una brutta giornata No 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 Ah aspetta Agrer È troppo Hai distrutto la mia vita Vieni qui Cosa è successo dopo? Ti ha eliminato? Sì Mi ha ucciso in cento modi diversi Ti faceva male? Sì Aspetta Qualcosa sta dando i numeri Amanda L'hai fatto tu? Ho visto Bambalena e Nablab guidare una macchina e mi hanno investito Tempo di guidare la mia nuova auto Ferma 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 Ah 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 Lei uccisa? No Lei è sopravvissuta solo con una botta in testa Capisco Ah Amanda Anche lei è morta Aspetta vedo un coltello Coltello dello sceriffo Ehi tu l'hai fatto Stavo solo togliendo le loro maschere Sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt Prima Bambalena Amico Altre maschere Amico Mio dio Altre maschere Ehi Torna qui Amico Cosa? Ok prima la fata Cosa? Justin. Pensavo avessi paura della fata. Ok, la famiglia di Zolfius. Wally. Amanda. Ora il puzzolente Joel. Per favore no, sono brutto. Ah, cacca. Fiddles. Sono bello. Vediamo ah. Skippy. Young. Ok, dopo Nibbles. Adam di Lenkibox. Amico impossibile. Ora per questo ragazzo del capitolo 4. Per favore, non fatelo. Ho dei figli e sono brutta dentro. Lo farò ah. Flamingo. Wow, pazzesco. Prossimo Nab Nab. Sono la persona più brutta del pianeta. Non fatelo vedere. Non dirlo. Nessuno è brutto. Mio Dio. Così carina. Prossimo Jumbo. Em, chi sei? Ok, prossimo. Luma Casseline. Please don't do it cause 1M average. Lo farò. Jenna. Ok, abbiamo controllato molti di loro. Ora questo ragazzo, dà un nuovo capitolo. Vediamo il tuo volto. Bello. Prossimo Bamban. Vediamo. No, per favore no. Cosa? Rick. Ti amo. John Viola. Vediamo. No, per favore. Smettetela subito. Nonno di Squid Game. Prossimo Esqualo. No. Ah. Isho Speed. Prossimo Pigster. 4. Kylos. Prossimo allenatore Pickles. Mister Beast. Wow. E ora tutti aspettavamo Nab Nab e Bambalena. Mio Dio. Wow. Ok, quindi non li hai eliminati. Qualcuno ha sparato allo sceriffo. Ah. Perché l'hai fatto? Hai ucciso Nab Nab e Bambalena? Odiavo Nab Nab perché mi entrava nell'occhio. Per favore esci dal mio occhio. E odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini. Bambini, state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio. Ok. Tempo di rubare dei bambini. I miei bambini. Mio Dio. Quindi cosa è successo dopo? Così un giorno volevo dargli una lezione. Mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione. Per favore no. Spavento. Aspetta. Sono morti? Aspetta cosa? Sì. No. Aspetta vedo qualcuno. Ehi, fermati qui. Ero innamorato di Bambalena. Sposerai Bambalena? Sì. Bambalena. Lo sposerai? Sì. Aspetta. No. Lui l'ha rubata. Ora baciami per sposarmi per sempre. No. Per favore no. Per favore no. Mai. No. Perché lo hai eliminato? Te che chiedi? Ti stavo salvando. Ma è Justin. Stavamo scherzando con te. No. Mio fratello. Quindi hai ucciso il falso Nab Nab. Sei un sospetto. Ah. Opia. Perché? Era Zulfius. Non io. Hai inciso Bambalena? Facevo colazione con il ketchup. Il mio cibo. No. No. Li hai mangiati tutti? Ero sazio. Cosa? Sentito uno sparo. Cosa? Amico rosso pensavo fossi morto. Dimmi cosa hai fatto. Stavo cercando di uccidere Bambalena e Nab Nab e ho fatto una competizione per gli spaventi. Tempo di uccidere il giardino di Bamban. Siete tutti a metà partita. Facciamolo. Chi ha vinto allora? Nessuno. Quindi non sappiamo ancora chi l'ha fatto. Aspetta. Cosa stai facendo? Mio dio Pigster. Quindi hai fatto tutto tu. Pensavo che avessi fermato il caso. Ero solo affamato. Ok. Stai andando in prigione. Impossibile che sia stato Pigster. Ma ce l'abbiamo fatta. Evviva. Questo è il nostro progetto più grande dopo Rainbow Friends. Dove sono? Questo posto è strano. Quindi scegliamo. Capelli rosa o capelli verdi. Verde. Bene. Sarò abbastanza grande. Occhi verdi o occhi ex. O a verde. Oh mio dio. Vedo che il mondo è fatto di sottaceti. Denti belli o denti trascurati. Bellissimi. Va bene. I miei denti sono fantastici. Ma sto iniziando ad assomigliare a lui. Vestiti verdi o rossi. Verde. Wow. Ho un aspetto fantastico. Ragazza tossica o poltiglia rosa sul tuo corpo. Umme diciamo tossica. Ho la mia testa. Faccia di bambola o faccia di papavero. Umme bambola. Wow wow. Non è realistico. Mi piace tutto Roblox più. Aspetta. Non voglio apparire così. Mi dispiace. Voglio tornare indietro. Non posso. Va bene. Allora vediamo come usciranno i miei fratelli. Che cos'è questo? Abito rosa o stile Wednesday. Vestito. Cosa? Occhi piccoli o occhi grandi. Grandi. Wow. Barba o ali finte ad Halloween. Adoro gli uccelli di ruolo. Becco o morte? Non li voglio entrambi. Ma il becco è meglio. Bene. Scegliamo le cosce di pollo. Cosa? Sto diventando un pollo. Crocchette di pollo. Cosa no? Sono un uccello arrabbiato. Volto di bambolo o papavero abbandonato. Bambola. Wow. Essere realistico o no? Non reale? Sono così realistico. Va bene. Sono il prossimo. Capelli blu o gialli. Blu. Cos'è questo? Occhi grandi o vestiti rosa. Occhi grandi. Cosa? Lingua. Bello. Forma di roccia. Forma. Bella. Ketchup sul corpo o sulla faccia di papavero. Ketchup. Cosa sono diventato? Due denti grandi o segno. Due denti grandi. Occhi verdi. L'ultimo. Realistico o non? Non. Sono il prossimo. Capelli rossi afro o bacon. Rosso. OMG. Essere brutto o bello? Bello. No. Che diamine è questo? Dominus o due cappelli di compleanno? Due cappelli. Essere tossico o pelle rossa? Pelle rossa. Sto iniziando ad assomigliare a questo. Lingua. Cosa sono diventato? Viso dolce. Realistico o non? No. Oh. Cattiva animazione. Io sono il prossimo. Capelli bianchi o rosa? Bianco. Bello. Orecchie bianche o naso grande? Orecchie bianche. Brutto viso o fiocco? Fiocco. Sono così carino? Nemici. Amici. Cosa mi è successo? Sono brutto. Gatto spaventoso o dolce? Dolce. Non. No. Bru. Saltafila. Non reale. Non. OMG. Prima scelta. Capelli arancioni o gialli? Arancione. Oh my god. Mani normali o braccia da tentacolo? Tentacolo. Non. Occhio grande o occhio illuminato? Grande. Faccia blob o faccia abbracciata? Blo. Bello. Nome del pesce. E l'ultimo. Essere realistico o non? Non. OMG. Aiutami. Posso farlo io per te. Wow. Siamo usciti. Cos'è questo? Mi sento come in un video dei Popcat. Anche Popcat è mio amico. Vero. Controlla i commenti per il mio commento. Scegli ora chi sarà il tuo genitore preferito. Certo. Mamma. Mamma. Aspetta. Capitan Fiddles. Cosa stai facendo? Stai scegliendo papà? Amore più papà. Cattiva scelta. Entrare? Oh no. Lo sta prendendo a pugni. No. L'ha gettato nella piscina tossica. Fratello. Il peggior padre di tutti i tempi. Non. Ci ha buttato dentro Pink. Questa famiglia è strana. Va bene. Siamo all'età di un anno. Per ottenere l'anno 5 e trovare la ragazza. Ne vedo uno. Entra. Ah. Prima controlla se sei abbastanza realistico. Bene. Controlliamo. Non. Non c'è modo. Non possiamo entrare. Ma ragazzi aspettate. Vedo qualcosa qui. Wow. Sei un genio? Sì. Entriamo. Presto. Bene. Questo è un tunnel segreto. Va bene. Stiamo uscendo nel parco giochi. Andiamo. Ehi. Ragazzi. Sono Phil dei Lego. Ho sostituito tutti i miei amici superstiti con i Lego. Jimmy. Non c'è nessuno di Lego. Il nostro turno. Il nostro turno. Wow. Siamo cresciuti. Quindi ora è il momento di crescere ancora di più. Per arrivare a 10 anni trova i tuoi scivoli. Devo saltare. Wow sì. Oh non. Chi è questo? Non entrare. O cosa? Perché sto usando questo posto come bagno. Fratello. Sei disgustoso. Ho bisogno di entrare dentro. Non importa come. Oh sì. Sto scivolando. Oh oh oh. Non stava mentendo. Aspetta. Aspetta. Chi è questo? Ah. Oh. Aspetta. Guarda il mio misuratore di vita che sta salendo e wow. Sono un mezzo umano e un mezzo giambo. Bello. Ora. Vediamo cosa sta facendo Opila. Vedo la mia diapositiva. Ah. 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 Adesso per scivolare. Wow. Vedo la mia diapositiva. Ehi. Non si può entrare. Perché? È morta qui. Mi dispiace ma devo. Facile. Entriamo. Wow. Sono più realistico. Il mio scivolo è lassù. Oh my god. Saltiamo. L'ho fatto. Questo non posso. Ah. Non posso perdere. Sì. Sì. L'ha fatto. Sì signore. Va bene papà. Come possiamo ottenere il prossimo aggiornamento? Trova le tue auto e salta dalla rampa. Bene. Devo cercare il mio. Ma aspetta. L'auto di Opila è così bella. Bugatti o McLaren? Mi dispiace ma prendo questa macchina. Ah. Ah perdente. Tempo per il salto. Yes. 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 No. 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 L'ho fatto. Wow. Sono più vecchio. Bene. Vedo la mia macchina. Le la ruberò. Torniamo indietro e sì. Sono dentro. Andiamo. Fermarsi. Oh non. Mi stai inseguendo. Ah veloce. Oh non. Non funziona. Umee. Cosa stai facendo? Questa situazione è piuttosto scomoda. Umee lasciami andare. Ah veloce. Corri. Sì. Scappo via. Andiamo. E ora è il momento della rampa. Proprio qui. E salto a A. Va bene. Ce l'ho fatta. Da 13 anni a 15. Andiamo a fare l'upgrade. Sono più realistico. Andiamo. E' tutto merito vostro. Ragazzi. Che mi aiutate mettendo like a questo video e naturalmente iscrivendovi. Bam bam vedo le nostre macchine. Sì. Rubiamoli. Andare. Cosa state facendo? Polizia. Polizia. Prendetelo. 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 Ciao ragazzi. Potete mettere mi piace e iscrivervi a questo video perché farò un grande omaggio per 100 000 Robux. Grazie e torniamo al video. L'ho fatto. Tempo per l'aggiornamento. Wawa è il mio momento. Sì. L'ho fatto. Wawa. Sono stato aggiornato. Papà cosa devo fare per ottenere la prossima evoluzione? Aiuta la tua ragazza. Oh mio dio. Cosa le stanno facendo? Vieni qui. Vi distruggerò tutti. Saltami addosso. E adesso? Ah, non era spaventoso. Ah, non era spaventoso. Ragazzi, saltali addosso. Ho preso il multiplo jump scare. Non è possibile. Non mi arrendo. Distruggiamoli di nuovo. Ah. Il più spaventoso jump scare ora. Ce l'ho fatta. Credo sia ora di aggiornarsi. Io questo aggiornamento è così bello. Ma ora vediamo come se la cava occhia. Veloce. La mia ragazza è stata attaccata. Lasciatela stare. O cosa? O cosa ha? Ha. O salta la guardia. Ha. Non fa nemmeno paura. Ha. Ha. Il nostro turno. Ha. 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 No. Devo tornare indietro. Vieni qui. Perdenti. Facile. Aggiornamento. Wow. Sono realistico. Devo salvare la mia regina. Saltare. Che cosa hai fatto? Ragazzi. Saltagli addosso. No. No. Vieni qui. Wow. Sono un adulto. Vedo la mia ragazza. No. Per favore lasciatemi in pace. Vieni qui. Perdente. Ehi. Ah. Ti faremo saltare in aria. No. Mi sto vendicando. Ah. Vieni qui ragazza. Grazie mille. Wow. Sono così reale. Bene. Tutti i miei fratelli hanno fatto l'upgrade. Wow. Sono bellissimi. Ma aspetta. Siamo a scuola? Per migliorare devi superare la scuola. Oh non. Dobbiamo passare la scuola. Sono troppo stupido per la scuola. Spiava gli insegnanti in bagno. Adoro sbirciare. Faceva la pipì con il water chiuso e il bidello si è arrabbiato. Errora di fare pipì. Che cos'è questo? Male. Imbrogliava agli esami con la sua ragazza. OMG è così difficile. Ho finito. Non c'è modo. Dammi le risposte bambalena. 2 più 2 uguale 4. Grazie. Facile. Male. Si sentiva innamorato della professoressa e lei lo mise in prigione per questo motivo. Wow insegnante sei perfetto. Cosa? Posso comprarti questi fiori. Cosa? Stai cercando di amarmi? Oh. Andrei in prigione. Vai dentro. Perché? Va bene. È il momento della sistemazione finale del bambam. Sei un cattivo studente. Oh non. Lei ha detto che lui era un cattivo studente. Niente per favore. Non. Bambam non. È morto. Non è possibile. Cosa gli hai fatto? Oh mio Dio. Sei così cattivo. Prossimo. Il prossimo. Oh. Sono il prossimo. Può risolvere ogni problema matematico? Ragazzi. Questo è il problema matematico più difficile del mondo e io lo risolvo. OMG. Grande lavoro. Wow. È 4. Il numero è 4. Sì. Perché l'ho fatto. Evviva ho preso A.E. Andiamo. E poi ho risolto il problema matematico più difficile che Albert Einstein è morto facendo. È vero? Sì. Non è possibile. Fantasma di Albert Einstein. Grazie mille Albert. Bene. Stava aiutando l'inserviente a pulire la cacca dal water. Aspetta. Davvero? Posso aiutarti. Non preoccuparti fratello. Grazie. Stai passando il corso? Oh, e ora sto iniziando a sembrare più realistico. E sono curioso di sapere quale sarà il prossimo upgrade. Successivo. Era nei bagni della scuola. Tempo per la cacca. Male. È stato vittima di bullismo per aver parlato con la sua ragazza. Ciao. Mi piaci davvero. Aiuto ragazzo. Non è colpa tua. Stai passando la scuola. Aggiornamento. L'ultimo. Era la persona più veloce di tutta la scuola. Mostrami. Wow. Piazzava uova ovunque nella scuola e i ragazzi ne uscivano fuori. Tempo per le uova. Cos'è questo? No, 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 no. Ha iniziato a piazzare uova d'oro e a venderle agli altri studenti per ottenere voti. Osservava le persone nel bagno della scuola. Sei bravo. Grazie. Tempo per l'aggiornamento. Papà, cosa dovremmo fare per ottenere la prossima evoluzione? Per il prossimo aggiornamento devi ottenere dei bambini. Vado per primo. Papà. OMG, sono orgoglioso. Wow, l'arancione è così realistico. Va bene, ora è il mio momento. Bene, allora per prima cosa userò il blu e aggiungerò il bambam. Andiamo. Vediamo cosa uscirà fuori. Wow, mio figlio sta uscendo. Sei bellissimo, figliolo. Sono brutto. No, non sei brutto. Oh mio Dio, è scappato via. Va bene, fammi provare con il colore verde. Ho il verde degli amici dell'arcobaleno e di Josh il gigante. Bene, entriamo. Bello. E vediamo i risultati. Wow, bel figlio. Mi assomigli. Ti voglio bene, papà. Anch'io ti voglio bene, figliolo. Questo è il momento più bello della mia vita. E mi sento come se stessi invecchiando. E ora ho 70 anni. Wow, sto benissimo. E ora è il momento di opila. Userò arancione e opila. Papà. Figlio, sono più vecchio. Red, guarda come siamo vicini ai 99 anni. Lo so, è per questo che ti ucciderò. Ehi, Red, che stai facendo? Ah, mi sta sparando. Aspetta, perché mi sento così vecchio? Oh mio Dio, sto perdendo il mio potere. Anche io. Aspetta, aspetta. Oh no, siamo morti. Come? Perché ci hai fatto questo amico rosso? Perché sei stato inutile? Pochi istanti dopo. Dove sono? Se vuoi ottenere l'evoluzione finale di 99 anni, devi valutare queste persone. Allora, la prima cosa è Wednesday. Va bene. L'amico rosso le ha detto di distruggere il Garten of Bambam. Aspetta. Cosa? Cosa stanno facendo? Piacere di conoscerti. Anche tu. Ah. Tornare. Facile. Ehi, sei così cattivo. Ti sto dando un brutto colpo. Poi, divideva la stanza con la sua bellissima sorella e l'ha uccisa. Aspetta. Cosa? Perché la tua stanza è così brutta? La mia è migliore. Il tuo è brutto. Colore nero. Cosa? Non odiare mai più la mia stanza. Era una cosa brutta. Credo. Ma sai, anche lei odiava la tua stanza. Quindi non lo so. Va bene. Il prossimo. Si è innamorata di un ragazzo. Ma lui aveva una fidanzata. Posso avere il tuo numero? Lui è mio. Cosa? Vieni con me. Non uscire mai. Wednesday mi piacevi. Ma ora sento che sei una persona cattiva. Bene. Il prossimo. Era la peggiore studentessa di tutti i tempi. Scusa Wednesday. Ma è una persona cattiva. Scusa. Sì. Vai qui. Il prossimo. Voleva farlo per te. Oh, grazie cane. Ti darò una bella lezione. La prossima. Ha una sua canzone meme che tutti adorano. Oh, anche questo è fantastico. Quindi ti darò del bene. Aveva un naso molto lungo. E' vero. Ma è bellissimo. Così buono. Vai a buono. Sì. Sì. E qui. Sì. Il prossimo. Gatto con gli stivali. Stava lottando con la sua morte. Ah, bene. Fammi vedere. Ti eliminerò. Voleva diventare un leone e distruggere. La morte. Ad essere onesti è un bene perché io odio la morte. Voleva una ragazza e dei bambini dolci come Shrek. Va bene. Allora ho un regalo per te. La tua nuova moglie e i tuoi figli. Ah. Wow. Puoi andare al bene naturalmente. Grazie. Il prossimo. Harry Potter. Ume usava la bacchetta magica per spiare le persone. Aspetta. Cosa? Abracadabra. Il prossimo. Voleva uccidere Voldemort. Ume Harry è vicino a te. Wow l'ha ucciso. Facile. Va bene il prossimo. Il bullo ha distrutto la sua bacchetta e ne voleva una nuova. Ehi, queste cose non sono né cattive né buone. Ma ti darò i beni perché ti voglio bene. Harry. Grazie mille. Bene. Quindi l'ultima valutazione va all'alfabeto della storia? Sono nella tua stanza. Aspetta. Nella mia stanza? Aspetta. A, B, D, C. O non. Stai uscendo da casa mia? Adesso. Ti distruggerò. La prima cosa da fare è andare qui. Oh sì? Entra. E ciao. Ah, va bene. Quindi la prima lettera è stata uccisa. E ora la B sta andando qui. Ciao. E la C sta morendo anche lei. Bene. Ragazzi, siete cattivi. Andate da cattivi. Ora. Ora è il momento dell'aggiornamento dei 99 anni. Ah, aspetta. Sono Shrek. Oh mio Dio. Quindi penso che per oggi sia abbastanza. Ci vediamo nella prossima e grazie per averci guardato. Ti amo. Ciao.